L'esperienza su questo raduno? Bellissimo raduno, dopo dieci anni ritorno sempre più bello Quindi si è divertito? Certo, certo, ovvio Andiamo adesso con il contestatore Il contestatore fa applauso al suo club, che io sono parte del climbing per il raduno, evento è riuscito come sempre, ma non avevo dubbi una ed unica sola pecca, la nota 50-52 Diciamo, ha bloccato purtroppo parecchie macchine anche il divertimento di chi voleva E proprio, c'è chi l'ha presa come divertimento e chi anche non l'ha presa come divertimento E i Suzuki non l'hanno fermati alla variante 50 I Suzuki sono passati Suzuki, variante 52, abbiamo completato il percorso Ha navigato Ha navigato Ha navigato Suzuki, va solo Suzuki Samurai, forever Forever Grazie